Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Il primo a violare, ovviamente in maniera del tutto immaginaria, la purezza e la protezione di un convento di monache di clausura fu Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi. La vicenda di Gertrude, in verità Marianna Deleiva, la monaca di Monza, è nota a tutti. Ma qui la causa della violazione di un luogo sacro e protetto ha una matrice ben precisa, sintetizzata dallo stesso Manzoni in tre parole, la sventurata rispose. Nella vicenda, che ha visto la violazione delle sacre mura del monastero di San Basilio, in pieno centro storico all'Aquila, gli sventurati sono altri. Complice la notte bianca che ha animato il capoluogo, qualcuno ha pensato bene di concludere la serata in maniera inopportuna, vale a dire entrando ubriaco intorno alle tre del mattino all'interno del monastero, forzando le porte della struttura e tentando di scassinare anche un secondo portone che avrebbe ammesso addirittura nella zona del dormitorio delle otto suore. Le religiose, svegliate di soprassalto, hanno chiamato i carabinieri e i due novelli egidio si sono dati alla fuga. Ma la nottata delle religiose non è finita qui. Due ore dopo, intorno alle cinque, a quell'ora le suore sono già raccolte nella prima preghiera del mattino, una di loro ha sentito dei rumori provenire dal confessionale all'interno della chiesa. In una storia che ha molto del sacrilego e boccaccesco e poco del buonsenso e del rispetto, ha trovato un uomo e una donna, completamente nudi, che all'interno del confessionale si erano lasciati andare all'amore non proprio in linea con quello proclamato dalla chiesa in un luogo di culto. I due sono fuggiti, raccogliendo gli abiti lasciati in terra e altra chiamata, con altro giro dei carabinieri. Una nottata da incubo per le otto religiose che adesso vivono terrorizzate per una intrusione che lascia veramente interdetti. Una cosa però su Orrena ha specificato, ha visto in volto tutti coloro che si sono introdotti, i primi e i secondi, e non sarà difficile individuarli. Si pentiranno?